Buonasera, io sono Fanfieric. Visto che la fancraft non posso continuarla, se non lo sapete siete degli stronzi, nessuno l'ha cagata di striscio, 29 visuali in due settimane, in un giorno ne ho fatte 80, il primo episodio e il secondo 29 in due settimane, siete dei bastardi. Ci ho messo impegno, che non è vero, ma ce ne ho messo. A parte gli scherzi, ho deciso di fare un 0,5 episodio del reaction alle tendenze. Non sapevo cosa fare, scusate, dopo Fieric è stato rapito un messaggio di aiuto, cosa cazzo dovevo fare? Ha fatto 10 mi piace a quel cazzo di video, inutile. Ok, iniziamo. Visto che ho già controllato le tendenze normali e sono una merda perché il calcio a me fa schifo, andiamo sulle tendenze ai giochi. Iniziamo con Lion, ovviamente. Oh, che bellissimo, che cazzo assurdo! È bellissimo! Non lo posso toccare, è vero! Sì, sì, è bellissimo, è bello! Ho i timpani che mi si stanno rompendo. Trovo di me a salire in alto, aspetta eh, aspetta un attimo, grazie così. Vai Lion! Ok, da qui ce l'ha fatto. Ma che, ma, ma quella è la finanza, ma cosa vuole fare? Vuole, vuole cementificarlo come ha fatto Fieric ogni volta nelle Napoli, Raft e oltre. Zolli, ci penso io! Siamo quasi! Dai, eccolo qua! La cifra! E niente, RIP finanza 2021-2021. Sei una monnezza, dai io ti sto buttando una monnezza. Ma io credevo, vabbè. Cosa è monnezza? Quindi viene da Napoli. Ah, che ride la tarantella. Guarda, non bruciano. Non bruciano, non bruciano! Scusa, io non sto capendo, cosa sto vedendo? Scusa, ma quello è fuoco fatto con la carne? Cosa? Cioè, ho fatto cosa adesso? Ho usato l'alziarino e la carne ha creato un fuoco fatto con la carne? cosa vuol dire tanto quando c'è sta cosa su minecraft diciamo che tolgo perchè ho visto già abbastanza lo guardo solo perchè sono in me contro te nostra vita qui nel mondo delle principesse il mondo delle principesse quindi si sono fatti di cocaina l'hanno sdiffate sono entrati nel mondo fatato delle principesse guardate che meraviglia va bene si il tuo emo ma che merda sono sti vestiti ma perchè sto guardando un video di roblox cos'è successo al mio canale perchè non ho idee vi prego datemi delle idee farò anche video di rilasciare tendenze quanto tempo tipo ora che sto avendo tempo per farlo ma vi prego datemi qualche idee da portare che sia video che si possono fare anche da android perchè io faccio solo da android i video andiamo avanti questa si che è una casa dei poveri non c'è niente la casa dei poveri ah quindi sono sergio quindi vivono con sergio sii dov'è sergio voglio vedere sergio nella loro casa devi usare con la fantasia e prendere la casa dei tuoi sogni guarda con la fantasia può fare come vuole quindi adesso se la trompi no mi distorcio mi distorcio signori di youtube e twitch casa tua guarda in quel buchino di casa non ci voglio proprio tornare almeno la mia è grande come puoi vedere cioè quindi tutti e due hanno la casa dei poveri ma co cazzo ma loro quanto hanno scusa loro hanno 5 milioni di iscritti hanno la casa dei poveri vabbè andiamo avanti con altre cose tra il 200 IQ fatto in foto questo vabbè burloni oggi su minecraft potremo incantare la nostra mano loro due dovranno giocare contro di me e provare a sconfiggermi prima che io sconfigga il drago va bene? sei contento che ne ho due anche io adesso? oh no c'ha l'autismo che ridere so oh no oh no io sono full ferro bravissimo anch'io sei contento? e beh raga ci avete tutto voi però eh si si ma perchè si mette dentro questo filter della faccia di sbagliato non so neanche come si chiama sto filter perchè se lo mette sempre? può rinascere cioè sembra di guarda non ho parole io dai oh che ansia ragazzi porca miseria ma come che ansia l'hai ucciso tu? fatemi cambiare video ti prego che è sta roba? benvenuti in questo nuovo video quest'oggi torniamo a fare una rampa dove si bucano le ruote e non oltre a dirvi si una volta prato pure a vedere i loro video perchè diciamo che no 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 non pensate male non pensate male non guardo sti video di merda però mi stavo interessando i video su gta 5 però fanno cagare i loro video quindi ho preferito provarci neanche più andiamo avanti oh ci ho fatto caso adesso un video di casu oh mio dio non importa se è blowstars è casu voglio vederlo che diventa rosso come un pomodoro perchè sul video sopra un start mi esce la pubblicità di blowstars ma che cazzo ok nuova stagione jurassic splash io non so se la faccio a continuare a vedere sta roba diciamo che sto gioco fa schifo e quindi poi vedo è caso che ridi a ste cose non ce la faccio vado avanti solo per vedere si diventa rosso come un pomodoro perchè ha questa abitudine questa qui è davvero bellissima scrivete qui sotto nei commenti quale skin preferite tra tutte queste nessuna mi raccomando ragazzi iscrivetevi al canale perchè io vi porterò sempre tutte le informazioni in anteprima mi spiace io non mi scrivo a caso anzi me ne vado perchè mi sto annoiando mi spiace con una famiglia di supereroi oddio sono molto emozionata la mia famiglia di supereroi oggi farà una super missione dove io finalmente forse avrò la possibilità di partecipare ma ancora non ne sono molto sicura è un giorno speciale lo so che è un giorno speciale sono pronta sono pronta supereroino Giovanni supermamma ho visto poi qualche altro nome che mi sono già inventato oggi toccherà a voi ma super missione ah avrete la prima missione da super cos'era quella ah avrete la vostra avrete la prima missione ma che cazzo eroi Angela e Giovanni siete pronti ma c'erano dei punti ma c'erano degli asterischi ma che cazzo aveva scritto aveva scritto una bestemma aveva scritto avevo proprio tre asterischi e con i dopo che aveva scritto va bene ma io non lo sono semplicemente non ho ancora scoperto il mio superpotere ma mi sembrano il suo superpotere è i compini volevo gli addonnal ma io se sto zitto non voglio di ste cose mi vuoi troppo da ridere di soltanto ste cose oddio andiamo avanti prova 5442 è il momento di volare no no funziona ancora caspita ok ma vuole cercare di volare o vuole cercare di suicidarsi non ho capito 2 1 via sono vi almeno beh almeno ho scoperto di saper resistere ai colpi ai colpi questo è quasi ammazzato ma come funziona roblos perchè è caduta da 10.000 metri e non è morta ma come cazzo funziona sto gioco ma non ho due pubblicità di film facciamo così non lo continuo sto video perfetto grazie youtube io due pubblicità di film non me le guardo di più di merda mi interessano manco oddio sbris ma che cazzo è sta roba ora voglio solo vedere sappare fiero questa timonata timonata gratis papà ciao sbriserino no papà vedere è una cosa incredibile che ho ingegnerizzato proprio io cos'è questo aborto ma è una sua mini versione ma che cazzo sto vedendo ma poi io ancora non ci credo che fierica con la perché poi è un mese tipo che un mese fa ha collaborato fierico con sbrisa per fare un video quando cazzo esce sto video tipo un mese fa ne ha parlato fierico che ha fatto il video con sbrisa e non è ancora uscito dettagli ora sbriserino se è un'arma ti impicco ah no 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 tranquillo non è un'arma cosa lo impicca lo mette a 180 gradi nel 45 cosa eh ah ok va bene che cosa non so manco perché ho detto questa frase in realtà non c'entra un cazzo con l'impiccazione quello che ho detto i bambini andrebbero andrebbero pazzi per questa cosa sciabolette e io venderei un casino ancora di più con la limonata che ne dici eh si potrei farlo aspetta un attimo vediamo provo eh beh beh prova prova e dimmi se ti esce qualche cosa ma sta usando la macchina del figlio per vendere ma questo è sfruttamento non ho visto fieric quindi diciamo che questo video è una merda mi dispiace ma il video finisce qua è passato a quasi mezz'ora di riprese ho fatto per farli capire quasi mezz'ora sono un giga e io tipo 10 giga nel telefono non voglio già spiegarli così ma dettagli e niente finisce qua spero sia buono questo video vada bene datemi delle idee come ho già detto e niente arrivederci come and get it ciao 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 Grazie a tutti.